open terni festival sabato 27 ottobre 2012 biblioteca comunale di terni risparmiare per crescere come il software open source può aiutare le piccole e medie aziende a spendere di meno per ottenere di più dalle 10 del mattino alla bct con conferenze trattenimento e innovazione all'insegna della libertà di impresa e di pensiero www.ternignuluk.org barra otf con linux si batte la crisi